Le politiche di austerity non hanno aiutato l'Europa ad uscire dalla crisi, le politiche di austerity hanno creato una grande disaffezione nei confronti dell'Europa e infatti ci sarà un numero cospicuo di parlamentari anti-europei e dobbiamo rimettere l'Europa delle famiglie, l'Europa del lavoro, l'Europa della crescita al centro. Per fare questo oggi l'Italia può tornare ad essere protagonista e questo è un risultato elettorale che ci dà una grande speranza. Non possiamo deludere questa speranza e siamo tutti impegnati a partire da oggi stesso per creare le condizioni perché l'Europa torni ad essere veramente un luogo di futuro soprattutto per le nuove generazioni.